Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! C'è la cucina? No, 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 no! Le mancine? Sì. Veramente? Non le mancine, c'è un po' più di piatto. Basta! Basta! No, no! Non era lei? Non era lei? Non era lei? Ma chi era? Era lei? L'ho sbagliato? L'ho perso? Non ha capito? Ma lei lo stava facendo! Non ha capito? È la Virginia? È di te? È di te? È di te? È eliminata la prima magia, Virginia? Si deve? Come è eliminata la prima magia? Non so più. Perché? Perché non è una mia scuola. Raga, ho fatto bene allontarci. Ho un cazzo duro per quello. Non per altro. Ma comunque, dipendendo da questo resto, non c'è un euro spin. Perché quello davanti mi fa... Ehm... Ho 50 centesimi. Ehm... Tu ce l'hai un euro. E io... Eurospin. E vedi la vita? Parlo un po' con voi ragazzi, parlo un po' con voi. Io serio? Ma sì, io queste cose non mi non le faremo mai. Ma tu... Ma perdesti al senso. Hai capito? Ma hai capito? Ma la differenza è da te e loro che tu mi piace e loro no. Non mi interessa, è il modo in cui ti comporti. Ma non ho fatto niente di male, sto scherzando. Ma non è che io non ho fatto niente di male a sopravire, eh. Sono tanto al tuo forte. Ma non ho fatto nulla. Va bene. Se pensi... Ti piace sbagliare? Ti piace sbagliare? Scusate. Ti piaciuta? No. 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 Allora è caldo. Virginia... Virginia è la migliore. È molto simpatica. Cioè... Fa veramente caldo. Sai che vorresti dare la mia pelle con le tue palle? No. Vorresti dare le mie palle con la tua pelle. Non dirai nemmeno. Ehm... Allora, è bellissima. Film non c'è... No, però mi piace. Vedete. A me piace una ragazza? Ok. No, no. Non lo sei segnato, sei legato. No, sei segnato. Stai... Cosa? No, verrà! No, verrà. Viaglia, 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 viaglia. Viaglia, viaglia. Viaglia, viaglia. Viaglia. Mostrala, mostrala, mostrala. Mostrala, bia. Guarda, veramente. Dai, c'è più storia. No, ti giuro. Il mio radio, eh. Guardaci dentro, hai dovuto incansare, Viginia cosa? Viginia, mi senti dentro? No, vengo dentro Non mi riesco, meno male Quello che voglio dirti è, io ho un regalo per te Ah, è un regalo, non ne faccio un regalino Non è prendere te Ma di certo non faccio le cose Ma che schifo che si vede Guarda che continui, dai, dai Oh, scusa Ciao, ciao, ciao Viginia Vabbè, mi sto fanno Sì, sì, si coltoglie la penna Mi mancava? Ciao ragazzi, eccoci qua Eccoci qua ragazzi Ma, per capire adesso Ma perché la benda? Vieni qua, quella è l'altro tu Come stai? Vieni, come stai? Puoi dire che sei arrabbiato con me? Questo è una verità Spiegagliela Devi dirmi quando Devi dirmi quando? Vuol dire che mi faccio arrabbiare più volte Come si chiama? No, sono benito Benito Lo voglio Velocissimo, fatete in piscina E questa Mazza che ciava Valentina Non è Valentina Ah, è Lucrezia Ah, è Lucrezia Fermi un attimo, scusate Mazza che ciava che c'è Lucrezia C'è un culo sgravato Bro, è da 16 anni Sto guardando tutte le foto Cioè, è una cosa finca, spacca È bellissimo questa piscina perché era in piscina Eh? Dalla fine del XX secolo Di stampo jihadista Responsabile tra gli altri degli attentati dell'11 settembre Allora Che ne pensi? Mazza che tette Cioè, c'è poco a dire No, è per dire Te non sei pianzata No Nemmeno io Cioè, in realtà ci stanno sentendo Non è niente di serio Capito Cioè, c'è Cioè, come stai? Puoi dire che sei arrabbiata con me? Per questo non è vero Spiegagliela Devi dirmi quando Devi dirmi quando? Cioè, devi dire La te la vedo sempre Vuol dire che mi faccio vedere più volte Così? Ok? Stai attento al microfono Che è quello lì Per favore Allora, io te lo giuro Allora Io ho saluto fatto un sogno Ok Ehm Cioè, se io sembra una cazzata Mi sono un po' dosso Però Ci sono i bass boosted Cioè, se i bass boosted che E E Fatti a passapeli Loro i bass boosted Ci caccia di casa Fidate Fidate Mi ha fatto vedere che sei passata Ti mando un bacione Ciao 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 figuna Ciao 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 Bella fregna Ciao Sei bellissima Ricordi Ciao Ciao Sera fregna Sei bellissima Ah 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 Ma come Dai Ti porto fuori Dai L'accompagno fuori Ti all'aggione Vado di questo qua Gesticelo Ok Allora Allora Sai che diventa parente dell'osso Ti capito Mortacci Stai quasi Adesso stanno te la litigando E Niente Io scusami se l'ho tolto Ma per rispetto della propria ragazza Che so che se no Si se ne veste Napoli Forza Napoli 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 come si chiama? 5 momenti? vai no 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 fermo fermo vai tra vai tra sicuro? so aspetta chill bro aspetta occhio a chi si vede? a posto cambia la carta a niqua e necesit Grazie a tutti.